Buongiorno a tutti voi. Intanto consentitemi di salutare e di ringraziare il presidente di Formez, il mio amico Giovanni Anastasi, per l'invito a partecipare a questo momento di confronto. Io sono stato lì da voi nella giornata precedente e oggi impegni istituzionali non mi consentono di esserci fisicamente, ma attraverso questo messaggio vorrei condividere con voi alcune riflessioni che ritengo importanti per il buon funzionamento delle nostre organizzazioni. Io partirei dalle parole pronunciate proprio dal presidente Anastasi che ha dichiarato come non sia importante quanto veloci possiamo essere, ma se lo siamo più del futuro. Ecco, per riuscire nell'impresa noi dobbiamo avere la capacità di immaginare, di mettere subito a terra le azioni necessarie per far diventare il domani già oggi. E non a caso le iniziative che abbiamo intrapreso sono orientate a disegnare una pubblica amministrazione vitale, efficiente, inclusiva, votata al merito e il modello con il quale Formez si propone è in linea con questa visione, finalizzata proprio ad anticipare le esigenze delle pubbliche amministrazioni per creare modelli virtuosi e replicabili. Non si può anticipare il futuro se non si lavora da subito, tra le altre cose, sull'intelligenza artificiale e sulle sue possibili applicazioni. Per questo io ho voluto creare un gruppo di lavoro ad hoc, coordinato proprio dal presidente Anastasi, al fine di utilizzare al meglio questo strumento proprio per capire quali siano le esigenze attuali e future e per fare in modo che ci siano servizi sempre più efficienti per cittadini e imprese. Formez sta già lavorando in questo senso con le amministrazioni centrali, con quelle territoriali, oltre ad aver avviato una specifica e costante formazione interna dei suoi dipendenti che prevede anche il loro intervento attivo attraverso specifiche call to action. Noi non dobbiamo dimenticare che l'intelligenza artificiale ha questo di peculiare rispetto ad altre innovazioni tecnologiche che abbiamo vissuto nel passato. Abbattere le barriere all'ingresso, sollecitare la creatività verso applicazioni originali che possono essere di grande utilità pratica. Ecco con il progetto FAST piccoli comuni stanno accompagnando le comunità con meno di 5.000 abitanti nel processo della transizione digitale proprio grazie all'uso di strumenti che sono basati sull'intelligenza artificiale. Stiamo supportando gli enti locali, quelli per così dire meno attrezzati a livello di personale, nella redazione degli atti amministrativi e per la gestione collaborativa dei progetti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Altri interventi sono in divenire e sono finalizzati, hanno l'obiettivo di avvicinare le nostre organizzazioni ai cittadini. In questo momento Formez sta interpretando, io credo correttamente, il suo ruolo di laboratorio per le pubbliche amministrazioni, avendo messo a terra per l'anno 2024 il nuovo modello di performance e leadership fondato sul merito. Ecco, questa modalità produce implicitamente un impulso al cambiamento che si traduce in formazione avanzata, in formazione costante di skill e conoscenze. Le attività sulla semplificazione dei processi sono un'evidenza ulteriore di un'attenzione ad essere sempre più efficaci ed efficienti, in linea con la necessità del nostro Paese di focalizzarsi al massimo, al massimo delle sue possibilità per generare valore pubblico. Ma Formez io credo che sia anche impulso al cambiamento delle skills e delle conoscenze perché supporta l'azione di rinnovamento della pubblica amministrazione tramite una formazione avanzata e costante, grazie all'affiancamento nel reclutamento e nel miglioramento delle performance e anche tramite il rafforzamento della capacità amministrativa con progetti di assistenza tecnica, di supporto alla comunicazione pubblica, che richiede sempre di più professionalità esperte nel digitale, soprattutto nel digitale, per essere al servizio delle persone. Ecco, tutte parole chiave che per la mission dell'Istituto rappresentano gli ambiti del suo intervento. E a questo proposito io credo che la capacità di miglioramento amministrativo vede uno dei suoi esempi più significativi nelle iniziative messe in campo a supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica per la rinascita del territorio di Caivano. Con spirito di squadra, con autentico senso dello Stato, abbiamo realizzato interventi in tempi record, interventi in tempi mai visti prima, con azioni volte a sviluppare il capitale umano, a migliorare la performance dell'amministrazione, a migliorare la qualità dei servizi erogati sul territorio. E questo l'abbiamo fatto grazie anche all'assunzione, alla formazione di 31 persone e ad uno sguardo sul futuro con l'istituzione del Consiglio delle Bambine e dei Bambini. C'è molto altro su cui l'Istituto sta lavorando. In primis la formazione, che io reputo determinante e cruciale e che deve essere considerata non più come una perdita di tempo, ma come parte integrante del lavoro pubblico. Uno dei progetti più importanti in questo campo, che stiamo realizzando con Formez, è GRU, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rivolto a comuni con una popolazione dai 25.000 ai 250.000 abitanti, che ha l'obiettivo di sviluppare le capacità di pianificazione, di organizzazione strategica delle risorse umane. E tra le attività vi è una progettazione, lo sviluppo di un cruscotto direzionale che, lasciatemi dire, in una logica di coordinamento può supportare il sistema di pianificazione delle risorse umane. Vi è poi un'altra area importante, sicuramente centrale nel servizio che è erogato da Formez ed è il reclutamento. Sono tanti i concorsi a cui Formez lavora in tutta Italia, per aiutare le nostre organizzazioni ad assumere in modo sempre più veloce, sempre più trasparente e tutto questo grazie anche alla completa digitalizzazione delle procedure. E in tutte queste attività, che vi ho brevemente riepilogato, noi ci aspettiamo che Formez dia anche un grande contributo alla capitalizzazione di quanto produciamo, perché questo valore non venga disperso nel respiro di un progetto, ma possa continuare invece a generare valore nelle sue possibili estensioni anche sulle altre realtà della pubblica amministrazione. E questo è il motivo per il quale invito tutte le pubbliche amministrazioni a iscriversi a questo contest, PAOK, insieme per creare valore pubblico. Al sito lo voglio citare www.pac.formez.it. È un progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, realizzato da Formez, che mira a premiare le amministrazioni virtuose ed è volto a selezionare, a sostenere, a valorizzare i progetti di innovazione degli enti centrali e territoriali finalizzati a raggiungere risultati tangibili e misurabili. Nasce anche per stimolare e premiare le pubbliche amministrazioni sui progetti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità dei servizi, a misurare le performance e i risultati tangibili per cittadini e imprese e a diffondere la consapevolezza circa contenuti e modalità di realizzazione delle buone pratiche che conducono la pubblica amministrazione verso il futuro. Io stesso avrò il piacere di premiare i progetti migliori e saranno individuate alcune amministrazioni che entreranno a far parte di un gruppo di lavoro con il Dipartimento della Funzione Pubblica per definire un set di indicatori di performance organizzativa. Ecco colgo nuovamente l'occasione per ringraziarvi dell'invito riaffermando che il rilancio della missione di Formez iniziato con il nuovo statuto, con la nuova organizzazione, prosegue per così dire a gonfie vele. I dati di bilancio del 2023 da poco approvato dall'Assemblea degli Associati con un utile superiore alle previsioni e i conti in ordine ne sono una buona conferma. Sono molto soddisfatto di questo percorso che ritengo fondamentale nella modernizzazione della pubblica amministrazione per il quale ringrazio i vertici dell'Istituto, il Consiglio di Amministrazione e tutto il personale, tutte le persone di Formez. Ora dobbiamo proseguire questo cammino per continuare a sostenere i nostri enti nello sviluppo e nella crescita del Paese, con senso d'urgenza, con senso dello Stato. Grazie e buon lavoro a tutti.